Prevenire si sa è meglio che curare ed allora alcuni commercianti e residenti presenti nella zona di via Amurge e Adandria hanno deciso di prendere carta e penne e di compilare una petizione per raccogliere firme e coinvolgere la comunità di quartiere affinché vi siano delle risposte da parte degli enti rispetto all'installazione di nuovi ripetitori telefonici sopra una palazzina. La preoccupazione di commercianti e residenti è naturalmente l'inquinamento da elettromagnetismo che potrebbe essere provocato dall'entrata in funzione di tutti gli impianti presenti su quella palazzina. Stiamo raccogliendo delle firme, siamo sotto un migliaio da inviare all'ARPA e al commissario prefettizio perché vogliamo chiedere semplicemente se effettivamente ci siano state delle autorizzazioni preventive all'installazione e all'otempore di questa di questa antenna o della rinnovata antenna ma soprattutto quello che sta a cuore a noi è che vengano effettuati tutti i controlli per verificare se le tecnologie esistenti abbiano un grado di generazione di campi magnetici che sia il più basso possibile nel rispetto della salute di tutti visto che qui abbiamo anche dei plessi scolastici e quindi c'è in gioco anche la salute di tanti bambini. La richiesta è in realtà piuttosto semplice come ci spiegano in coro Savino Murali e Saverio Guglielmi due imprenditori che vivono e lavorano in quella zona e che si sono resi promotori dell'iniziativa della raccolta firme che ha già quasi toccato le mille adesioni. Capire se è tutto in regola e se vi sono tutte le autorizzazioni necessarie oltre soprattutto al costante monitoraggio da parte dell'ARPA. Su quella palazzina è già presente e sono già attive alcune antenne di un gestore telefonico sin dall'anno 2000. Negli scorsi mesi invece un altro gestore ha installato un impianto sempre nello stesso luogo. Impianto che non dovrebbe essere ancora attivo al momento. Tra le preoccupazioni dei residenti e dei commercianti vi è senza dubbio quello degli istituti scolastici presenti in quella zona. È un quartiere popoloso e a questo si aggiungono quindi oltre alle abitazioni tutte le attività artigianali due plessi importanti. Parliamo di scuola primaria e di infanzia quindi parliamo del futuro della nostra città. Per questo motivo chiediamo effettivamente che tutto sia svolto legittimamente e senza che venga arrecato danno alla salute umana. Firme e petizione saranno consegnati nei prossimi giorni a Commissario Prefettizio ed Arpa Puglia.